ciao a tutti oggi come vedete non ho la chitarra in braccio ma mi piacerebbe parlare con voi lo stesso di musica senza suonare però vorrei fare un po il punto sulla situazione dopo che sono passati su questo canale diversi video che riguardano i maneskin e vorrei chiudere un po il cerchio con quelli che potrebbero essere dei gruppi che se ascoltate se magari non li conoscete e se fate un giro ad ascoltare potrebbero piacervi tanto come è successo a me il primo gruppo dal quale partirei sono gli after hours gli after hours nascono nel 1986 e sono una creatura di manuel agnelli manuel agnelli è direttamente legato con i maneskin proprio perché se vi ricordate loro arrivano da il talent show gli after hours sono uno dei gruppi italiani che fanno parte della scena facevano parte della scena indie rock degli anni 90 più importanti appunto della storia della musica rock italiana loro insieme ai marlene kunz anche gli after hours partecipano a sanremo nel 2009 però non hanno la stessa fortuna dei maneskin vengono eliminati al primo turno vincono però lo stesso il premio della critica mia martini vi consiglierei assolutamente di ascoltare alcuni dischi degli after hours quelli che preferisco sono germi hai paura del buio e anche i milanesi ammazzano sabato uno dei lavori che è arrivato dopo il 2000 se non ricordo male nel 2005 il primo disco che vi ho consigliato germi è uscito addirittura nel 95 ma è quello che ha consacrato definitivamente gli after hours come grande gruppo rock italiano le caratteristiche appunto del suono degli after hours sono il cantato in italiano di manuel agnelli la sua voce è inconfondibile e le sonorità rock spesso molto dure di derivazione punk grunge ma anche la forte sperimentazione troverete nei branni degli after hours un sacco di noise un sacco di riferimenti psichedelici dall'album germi e tratta anche dentro marylin una delle canzoni che mi piacciono di più degli after hours e che addirittura mina ha preso e ne ha fatto una cover che vi consiglio di ascoltare quindi after hours sicuramente un gruppo che se il rock proposto dai maneskin vi piace non dovete farvi mancare se non avete voglia di ascoltare tutti e tre i dischi che vi ho consigliato prima hanno fatto per il loro trentennale della formazione della band è un disco che si intitola foto di pura gioia ecco all'interno di quel disco trovate tutte le loro canzoni più importanti anche se il mio consiglio è quello di prendere i dischi e ascoltarli perché ogni disco rispecchia un periodo della loro storia musicale e quindi magari troverete delle cose di diverse alle quali potrete affezionarvi più o meno a seconda del periodo un altro gruppo che vi consiglio di ascoltare sono il teatro degli orrori il teatro degli orrori nascono più tardi degli after hours nel 2005 mi sembra teatro degli orrori sono un gruppo molto particolare secondo me irripetibile nella scena italiana perché hanno una componente sonora subito riconoscibile sono a tratti molto molto virtuosi ed estremi si sentono delle chitarre molto forti un modo di suonare è molto heavy pesante unito però a un cantato quello di capovilla che spesso è parlato e teatrale non ci troviamo di fronte a un cantante che canta delle melodie bensì a un cantante che narra sopra questa sopra le loro musiche sopra queste musiche spesso incalzanti con dei riff anche molto sincopati sentiamo la sua voce che narra delle storie questo rende il suono del teatro degli orrori molto particolare un'altra cosa molto particolare sempre della voce di capovilla e che la rende molto riconoscibile che è un suono molto nasale quindi dalla prima volta che la sentirete la riconoscerete ovunque vi consiglio due dischi del teatro degli orrori il primo dell'impero delle tenebre dove al suo interno c'è la canzone di tom una canzone che mi piace tantissimo e a sangue freddo un altro disco in cui sono contenute alcune delle canzoni che mi piacciono di più appunto a sangue freddo che dà il titolo al disco un altro gruppo che vi consiglio di ascoltare sono i ministri anche loro hanno lavorato con gli after hours e i ministri nascono nel 2003 quindi anche loro hanno già una bella storia alle spalle e parecchi dischi e parecchio palco soprattutto caratteristiche del suono dei ministri i ministri nel corso degli anni hanno mantenuto una forte radice rock nel loro suono ma sono passati anche attraverso altri tipi di sonorità hanno fatto dei lenti delle ballate delle canzoni un po più pop un po più synth pop però non hanno mai perso la loro identità una cosa che trovo meravigliosa dei ministri è la stesura dei testi i testi scritti dal chitarrista dragonia secondo me sono alcuni fra i testi più belli scritti negli ultimi anni di musica italiana quindi se siete delle persone che adorano ascoltare i testi delle canzoni e danno molta importanza alle parole date un ascolto ai lavori dei ministri perché i loro testi li trovo semplici diretti ma con dei messaggi davvero importanti un'altra caratteristica dei ministri che quella che poi mi ha fatto innamorare di loro è il loro impatto dal vivo non si risparmiano danno davvero il cento per cento quando li ho visti dal vivo in diverse occasioni hanno proprio come si dice spaccato tutto sono stati molto molto bravi quindi è sempre un piacere andare a vederli dal vivo è uscito da poco l'ultimo EP dei ministri cronaca nera e musica leggera già con quello potete farvi un'idea del sound dei ministri i dischi che vi consiglio di ascoltare sono un po più vecchi i soldi sono finiti e tempi bui sono due dischi che a me piacciono molto in realtà mi piacciono praticamente tutti i dischi dei ministri però se volete iniziare a farvi un'idea sul loro sound potete partire da quelli non rimarrete delusi un altro gruppo musicale italiano che viene catalogato come rock alternative sono i fast animal and slow kids abbreviati anche come fask sono un gruppo giovane non proprio come i maneskin però hanno iniziato anche loro da giovani quindi prima dei 30 anni il loro primo disco cavalli è un disco molto grezzo molto giovanile il secondo disco però uscito subito l'anno dopo ibris si intitola è un disco già molto più maturo dove il suono è più organizzato e anche le composizioni i testi hanno una maturità diversa in un solo anno per un gruppo questa è una cosa molto molto buona come i maneskin i fast animal and slow kids hanno una figura principale nel cantante il cantante molto forte se vi capita di del vivo noterete come la sua presenza scenica sia davvero importante la sua voce il suo modo di tenere il palco sia come quello del cantante dei maneskin davvero quello di un frontman navigato con tanta esperienza dopo i primi due dischi dei fast che le sonorità si ammorbidiscono e passano un po' più al pop quindi lasciano un po' quel filone rock che avevano iniziato questo non vuol dire che però i dischi non siano altrettanto validi una caratteristica loro fondamentale è che il loro cantautorato è molto riconoscibile mantiene un'identità da il primo disco fino arrivare all'ultimo e questa è una cosa molto importante anche se avviene un cambio di suono e di sonorità all'interno dei dischi stessi l'ultimo gruppo di cui vorrei parlarvi sono i Verdena un gruppo che nasce alla metà degli anni 90 e che trova il proprio successo verso la fine appunto degli anni 90 con il singolo valvonauta ecco i Verdena sono di tutti i gruppi che ho nominato fino adesso quelli che hanno avuto una mutazione sonora più importante i suoni negli anni 90 erano più grezzi più grunge erano un gruppo che si ispirava fortemente ai Nirvana che appunto negli anni 90 erano i leader del movimento grunge che aveva spopolato l'MTV generation in giro per tutto il mondo bene i Verdena hanno poi con il successo con le esperienze con il palco trovato una loro identità hanno cambiato il loro suono nel corso degli anni quindi quello che vi consiglio è di ascoltare due dei lavori dei Verdena che a me sono piaciuti tantissimo il primo è il suicidio del samurai il secondo è Requiem anche gli altri album sono degli album che mi sono piaciuto molto and cadence volume 1 e 2 e anche wow sono degli album però più lunghi e un po meno accessibili al primo ascolto quindi se volete farvi un'idea del sound che è cambiato nel corso degli anni dei Verdena vi consiglio di partire da quei due dischi bene questi di cui abbiamo parlato fino adesso sono solo alcuni dei gruppi della scena italiana rock del presente e anche del passato più recente volendo potremmo parlarne per ore potremmo andare a trovare un'altra marea di gruppi che fanno parte del rock e di tutte le sue derivazioni indipendenti funk stoner un po' più pesanti evi psichedelici insomma se avete dei gruppi che volete consigliare agli altri qui sotto nei commenti scrivetelo pure consigliateli anche a me perché c'è sempre qualcosa da imparare da conoscere se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima ciao